Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video sono sempre io Felix anche oggi andiamo a vedere una nuovissima applicazione per lo smartphone che ci permetterà di guadagnare soldi su Paypal con un prelievo minimo di soli 2 dollari soldi su Paypal andando a completare le offerte che se guardate il video fino alla fine vi faccio vedere come si vanno a completare andando a completare le offerte e andando a completare i sondaggi quello che consiglio io ovviamente è quello di andare a completare le offerte offerte del tipo come scaricare dei giochi andarli ad aprire e veniamo ricompensati oppure offerte del tipo andare a scaricare i giochi andando a giocare al gioco andando a completare i vari livelli del gioco si viene premiati grazie a questa app prelievo minimo di 2 dollari su Paypal qui potete vedere ragazzi la prova di pagamento di questa fantastica applicazione che è chiamata Rewards vi lascio poi il link qui sotto in descrizione se lo volete scaricare tramite il mio sito oppure andate nel Play Store di Android andate a scrivere nel motore di ricerca Rewards e vi troverete davanti a questa app dove la potete andare a scaricare e iniziare a guadagnare ma mi raccomando ragazzi seguite questo video perché vi faccio vedere come andare a completare le offerte in modo corretto e andare a reclamare i punti questa è una cosa molto importante come si fa andare a reclamare i punti che non vi vengono dati dalle offerte questa è una cosa molto importante ma prima di proseguire con il video come sempre ti invito a lasciare un bel like e mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se siete appassionati di queste applicazioni per lo smartphone che ovviamente non vi fanno guadagnare un sacco di soldi ma però diciamo che è un bel passatempo e diciamo che a fine mese andandole a utilizzare si possono guadagnare senza fare poi affiliazioni quindi senza andare a condividere il codice bonus con le altre persone con gli amici senza fare affiliazioni si possono guadagnare dai 5 ai 10 euro con questa applicazione qua al mese ragazzi ok quindi come vedete non è tanto facendo ovviamente affiliazione si va sempre a guadagnare di più se volete poi rimanere aggiornati sulle altre prove di pagamento basterà iscriversi al canale telegram quello che vedete attualmente iscrivetevi a questo canale vi lascio il link qui sotto in descrizione che è molto importante perché vado a postare tutte le prove di pagamento di tutte le app ovviamente che porto in questo canale di youtube e anche nel secondo canale chiamato felix 2.0 dove ormai stiamo raggiungendo i 10.000 utenti iscritti e come avete detto questa qua è l'applicazione rewards e praticamente si viene pagati per andare a completare le offerte e andare a completare i sondaggi il problema di queste app è che le offerte e i sondaggi sono veramente difficili da andare a completare ma seguite il video fino alla fine raga come vi ho detto perché adesso vi faccio vedere come funziona intanto in alto nella sinistra abbiamo il nostro bilancio io attualmente ho 3 dollari e 7 centesimi qui come potete vedere c'è la prova di pagamento perché sono andato a prelevare 2 dollari su paypal per vedere se l'app effettivamente pagava e devo dire che paga ok in 24 ore mi ha pagato questa applicazione qua ma dategli ovviamente fino a 7 giorni lavorativi per elaborare il vostro pagamento andando in alto nella sinistra dove c'è il nostro profilo felix qua ragazzi qui vi voglio far vedere che non sto mentendo che le offerte si riescono ad andare a completare ok perché qua abbiamo tutta la nostra history dell'app qua le offerte si vanno a completare qua sotto ci sono tutte le offerte che ho completato andando a completare queste offerte ovviamente si viene pagati si vengono pagati in punti che poi effettivamente i punti sono i centesimi come vedete il 21 aprile ho guadagnato 77 punti andando a scaricare un'app andandola ad aprire e rimanendo all'interno dell'applicazione senza fare nulla per almeno 2 minuti dopodiché sono ritornato a questa app principale e mi sono stati accreditati come vedete 77 punti che sono poi raga 77 centesimi di dollaro guadagnati in veramente pochi minuti adesso vi faccio vedere come funziona qua intanto potete vedere le offerte che ho completato qua potete vedere il mio payout history qua come vedete ho prelevato i 2 dollari il 20 aprile del 2021 andando poi in alto nella destra dove abbiamo la rotellina qua ragazzi andando a vedere le transazioni la nostra storia delle transazioni qui potete vedere praticamente tutte le offerte che sono andato a completare ok come vedete 77 centesimi 1 centesimo 5 centesimi 6 centesimi solamente andando a scaricare app e andandole ad aprire quindi devo dire che secondo me questa qua per me ok personalmente è una delle migliori applicazioni dove se tu vai a completare delle offerte vieni veramente pagato ovviamente non è che dovete pensare che andando a completare l'offerta i punti vi vengono accreditati subito immediatamente si con alcune offerte si ma con altre ci vogliono anche 48 ore e adesso più avanti nel video vi faccio vedere anche come reclamare i punti che non vi sono stati accreditati dal completamento delle offerte e qua potete vedere un altro withdrawal praticamente ho prelevato 2 dollari su paypal ok adesso incominciamo a vedere come funziona intanto una volta che avete scaricato l'applicazione vi troverete davanti a questa pagina qua è molto molto semplice il mio consiglio numero 1 dove andare a completare le offerte quindi andare a scaricare i giochi andandole aprire andando a giocare è andare in adgate offer wall proprio questo qui ci andate a premere sopra ci sono veramente un sacco di offerte al suo interno ok come scaricare le applicazioni andandole solamente ad aprire veniamo ricompensati andando a scaricare le app andando a giocare andando a completare i livelli andando ad effettuare dei quiz veniamo ricompensati nella sinistra abbiamo le offerte nella destra vediamo i punti i centesimi poi alla fine che sono poi le nostre ricompense ovviamente non è tutto oro quello che luccica e ovviamente ci sono offerte che non ci vengono accreditate ma non vi preoccupate dovete fare così dovete andare in fondo alla pagina in questo servizio qua in adgate andare in supporto ok ragazzi qua come vedete ho completato due offerte visto che l'ho visualizzata l'offerta ma non mi ha dato mica i punti che cosa dobbiamo fare? basterà andare a scorrere verso sinistra su un'offerta che non c'è stata ricompensata ok come vedete basterà mettere il nostro nome e cognome e andare a mettere nella spunta non ho ricevuto i punti ok vi chiederà ovviamente uno screenshot del vostro smartphone dove avete effettivamente installato l'app che richiedeva l'offerta e l'andate ad inviare praticamente a adgate e riceverete poi i vostri punti qua come vedete sono tutte altre offerte invece che mi sono state accreditate ci sono veramente veramente un sacco di offerte ragazzi guardate qua quante ce ne sono possiamo andare a completare i quiz possiamo andare a giocare salendo di livello veniamo ricompensati e grazie al supporto possiamo andarli a contattare se non ce vanno mica ad accreditare i punti andando appena a completare le offerte come vi ho detto i punti non vi vengono accreditati immediatamente alcuni si ma altri no quindi per esempio queste due offerte che sono andato a completare non mi sono state accreditate andando a scorrere verso sinistra guardate cosa mi dice attendi almeno 45 minuti prima di contattare l'assistenza quindi loro dovranno visionare se voi avete tenuto l'applicazione del vostro smartphone ne l'avete aperta una volta che sono state visionate queste offerte qua vi accrediteranno i punti se non succede andate nel supporto ragazzi e andate a reclamare i vostri punti che non vi sono stati accreditati ma non solo ad i gate ci sono veramente altre altre offerte ce ne sono veramente un sacco che ti fanno guadagnare soldi su paypal una volta poi arrivati a prelevo minimo basterà andare a premere su we drove qua possiamo andare a prelevare on con paypal paytm oppure trasferirli nel google pay ebbene ragazzi per il video è tutto mi raccomando se volete rimanere aggiornati su altre applicazioni come questa iscrivetevi al canale e attivate la campanellina noi ci vediamo nel prossimo video ciao da felix